Si sono diverse incertezze nel valo della formazione della Pistoese che nel tardo pomeriggio di giovedì affronta per il turno di Coppa Italia la Carrarese, reduce dal pareggio a reti inviolate contro la Lucchese nella sfida di sabato scorso. L'allenatore degli arancioni, Cristiano Lucarelli, deve verificare le condizioni fisiche di Romeo, Celiento e di Calvano. Tutte e tre hanno lavorato a ritmo ridotto, piana e out da diversi giorni. La squadra è pronta a giocare la prima partita con i tre punti in panio. I marmiferi sono una buona squadra. Contro la Lucchese hanno giocato con intensità. La Pistoese è in crescento di condizione e di gioco. Anche contro il Carpi ha giocato a briglia sciolta. La squadra è migliorata in attacco proponendosi con conclusioni importanti. Lucarelli non si sbilancia in tema di formazione. Ha i giocatori contati, per cui i cambi saranno attentamente valutati. Possibile vedere in campo il nea acquisto Gian Mario Piscitella. Potrebbe fare coppia con Tripoli, che ha bene impressionato nello scorcio di partita disputato contro il Carpi. Il 24 agosto la Pistoese sarà impegnata nell'ultimo turno di Coppa Italia contro la Lucchese al Portelisa.